Ancora reati riconducibili a violenze e stalking, due gli arresti attuati dalle forze dell'ordine nelle ultime ore ed altrettante applicazioni di braccialetti elettronici per gli autori degli atteggiamenti persecutori. Misura fortemente incentivata dal procuratore capo della Repubblica di Biella Teresa Angela Camelio nel novembre scorso. Con le due misure delle ultime ore salgono a sette i dispositivi applicati ad altrettanti soggetti. Non accenna a diminuire nemmeno nel biellese questa tipologia di reati che vede sempre più azioni a contrasto di questo fenomeno che nel peggiore dei casi, come sappiamo, può anche sfociare in femminicidi. Sono due gli uomini, uno di 59 e l'altro di 46 anni, entrambi di Biella arrestati due giorni fa per stalking, messi entrambi agli arresti domiciliari ma con l'applicazione del braccialetto elettronico. Il primo avrebbe perseguitato per lunghi mesi la vicina molto più giovane di lui e per di più sposata. Il secondo avrebbe esasperato la ex convivente pur di riuscire a ritornare con lei.